benvenuti a questa nuova edizione della tg flash il primo dei quattro quaresimali in programma si è svolto ieri sera giovedì 17 marzo alle ore 21 in cattedrale con la lezione divina di madre ignazia angelini la badessa del monastero benedettino di viboldone al centro della sua riflessione osiamo dire padre nostro ovvero l'incipite della preghiera al centro di tutti e quattro i quaresimali in programma per prepararci alla pasqua l'intera serata è stata trasmessa in diretta web sui due siti il portale della diocesi e quello della web tv diocesana piacenza diocesi.tv l'operazione sarà ripetuta anche per gli interventi di paola bignardi pierangelo sequeri e denzo bianchi protagonisti dei prossimi quaresimali sempre di giovedì alle 21 in cattedrale il servizio multimedia per la pastorale tramite la diretta via internet desidera offrire anche a chi non può recarsi direttamente in duomo a piacenza la possibilità di partecipare all'evento il progetto è stato pensato soprattutto per le zone più lontane della nostra vasta diocesi che fanno più fatica a spostarsi tramite la diretta è possibile anche creare punti di ascolto dove si possono raccogliere più persone che vivano in comunione con la cattedrale questi momenti è sufficiente una connessione internet il vescovo monsignor gianni ambrosio è nominato tra la terna indicata dal consiglio diocesano di azione cattolica subito dopo l'assemblea elettiva del 20 febbraio elena camminati presidente diocesano di azione cattolica per il prossimo triennio subentra a pierpaolo triano in cui si era affiancata la presidenza negli ultimi mesi elena camminati 51 anni è sposata tre figli ed è docente di architettura presso liceo artistico cassinare di piacenza l'azione cattolica diocesana conta quasi 1300 iscritti e quest'anno festeggia i suoi 140 anni di vita la responsabilità e la sfida comunica la neopresidente è quello di rendere l'annuncio del vangelo e la presenza della chiesa vicini e compagni della vita e delle persone accompagnando in particolare il servizio dei presbiteri soprattutto quelli più soli e stanchi nella piena corresponsabilità dei laici nella vita della chiesa anche in questo secondo anno di missione popolare i bambini e i ragazzi sono invitati a vivere un momento di ritiro dedicato solamente a loro nel tempo di quaresima il ritiro sarà vissuto a livello parrocchiale e in particolare sarà affrontato il tema della fragilità sul portale della diocese è disponibile il sussidio abitare il limite per animare il ritiro già nel periodo di avvento e ragazze hanno vissuto il loro primo ritiro nel quale è stata presentata la prima tappa di questo anno di missione popolare il secondo ritiro potrà essere vissuto a livello di parrocchia o di unità pastorale e il sussidio spiega il tema e suggerisce modalità di svolgimento il brano di vangelo scelto è il riferimento per la quaresima diocesana la pagina di giovanni quindi in cui si narra della guarigione del cieco nato e che sarà proclamato nella quarta domenica di quaresima ovvero il 3 aprile si suggerisce quindi quella come possibile data per la realizzazione del ritiro ma ogni parrocchia è libera di organizzarsi all'interno del tempo quaresimale l'obiettivo principale sarà quello di stimolare i bambini e i ragazzi a pensare alle proprie fragilità e a quelle dell'altro torna anche quest'anno la giornata in ricordo dei missionari martiri nella serata del 24 marzo in cattedrale alle 21 durante il quaresimale saranno ricordati ma diverse sono anche le iniziative artistiche di approfondimento che accompagnano in diocesi questa ricorrenza a partire dal 15 marzo infatti è stata inaugurata presso la basilica di sant'antonino una mostra fotografica intitolata martiri del nostro tempo con ritratti di volti conosciuti come don andrea santoro e sua leonella sgorbati la mostra rimane aperta al pubblico fino a giovedì 24 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 domenica 20 marzo inoltre in programma la proiezione del film uomini di dio alle ore 21 presso l'oratorio della sacra famiglia la pellicola in cartellone al cinema gioli lo scorso inverno racconta la storia dei monaci di tibrain uccisi nel 1996 di cui si parla anche nella mostra sempre la vicenda di questi monaci trappisti uccisi in algeria sarà al centro della serata del 22 marzo presso la basilica di sant'antonino con la presentazione del libro il giardiniere di tibrain da parte dello stesso autore padre gianmarie lassos intervistato dalla giornalista di mondo emissione anna pozzi si svolgerà sabato 16 aprile la gmg vissuta a livello diocesano l'appuntamento per tutti i giovani della diocesi con il vescovo monsignor gianni ambrosio e alle ore 16 30 presso la chiesa di santissima trinità a piacenza dove avverrà la consegna delle palme ai rappresentanti delle parrocchie presenti che il giorno dopo la porteranno in processione ciascuno nella propria parrocchia come segno dell'unità con tutta la diocesi il tema della giornata è quello stabilito dal papa benedetto xvi nel suo messaggio radicati e fondati in cristo saldi nella fede che caratterizzerà anche i giorni della gmg mondiale che si terrà a madridi il prossimo agosto e al quale parteciperanno anche molti giovani della nostra diocesi al termine della celebrazione ci sarà un momento di ritrovo e di festa per tutti i giovani presenti vi segnalo ora alcuni appuntamenti in diocesi venerdì 25 marzo è la giornata dell'annunciazione e tradizionalmente anche la festa del sì nella quale i religiosi per cui i frati e le suore festeggiano rinnovano le loro promesse in occasione anche degli anniversari di ordinazione alle 18 e 30 presso la basilica di santa maria di campagna sarà celebrata una messa dalla nostro vescovo monsignor gianne ambrosio per tutta la giornata ci saranno messe sarà possibile anche portare i bambini per il tradizionale ballo dei bambini sabato 26 marzo alle ore 21 a corte maggiore presso l'oratorio san giuseppe si concluderà la settimana sociale dei cattolici piacentini con il concerto cantare suonare il padre nostro preghiera della speranza con il coro diretto dal maestro massimo berzolla e in quell'occasione sarà conferito anche il riconoscimento stefania rossi il 10 aprile in programma presso il centro pastorale la bellotta di pontenura a partire dalle 9 e mezza di mattina la festa delle famiglie organizzata dall'ufficio di pastorale del matrimonio e della famiglia interverrà per tutti il vescovo ausiliare di milano monsignor franco giulio brambilla mentre per i bambini e per i ragazzi è previsto un programma party con degli animatori a loro dedicati è tutto vi ringrazio per essere rimasti con noi vi ricordo anche che sulla web tv di cesana questa settimana sono stati postati diversi video tra i quali anche la presentazione del nostro nuovo vicario generale monsignor giuseppe illica da parte del nostro vescovo ma anche gli ultimi lavori e gli ultimi programmi della pastorale giovanile che si è incontrata con i rappresentanti dei vicariati la settimana sociale dei cattolici piacentini con l'intervento di cicciotti e naturalmente la diretta del primo dei quattro quaresimali quindi vi invito a continuare a seguirci buona settimana